Buonasera a tutti, iniziamo questa serata musicale che alternerà un po' di liscio e un po' di musica ad ascolto. Io sono Alice, lui è Andrea, il nostro gruppo è Gli Arts Music. Sì, respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!